Perché siete qui? Non è per i soldi. Un impiegato statale di livello GS15, come è sottoscritto, guadagna più o meno cosa? 75.000 dollari all'anno? Non bastano nemmeno per una macchina sportiva decente. Non è per il sesso. Trovarmi qui non vi aiuterà a rimorchiare. Oh, tu sei una donto tecnica? Io faccio parte della CIA, sai. Presiedo la centrale di Mosca. Sì, l'allero. Allora è per la fama? I nostri fallimenti sono noti. I nostri successi? Mai. È il motto dell'azienda. Tu salvi il mondo e vieni condotto in un polveroso sotterraneo all'Engley, ti danno dei biscotti a una gazzosa e ti mostrano una medaglia. Non puoi neanche portarti alla casa. Quindi non è per soldi, sesso o fama. Allora perché? Io dico che ci troviamo qui, in questa stanza, perché noi, noi crediamo. Crediamo nel bene e nel male e scegliamo il bene. Noi crediamo nella giustizia e nell'ingiustizia e scegliamo la giustizia. La nostra è una causa giusta. I nostri nemici sono dappertutto. Ovunque, intorno a noi, c'è roba da far paura in giro, il che ci porta qui, alla fattoria. Tutti voi avete varcato lo specchio magico. Di tutto quello che vedete o che sentite, niente. È ciò che sembra.